Sarebbero cinque ragazzini, due dei quali appena tredicenni, responsabili dei due principi di incendio che si sono verificati tra il 26 e il 30 ottobre scorsi all'ex Chiari e Forti di Silea, a individuarli dopo una breve indagine i carabinieri che hanno denunciato a piede libero i cinque minori con l'accusa di incendio doloso in concorso. Oltre ai due tredicenni ci sono un quattordicenne, un sedicenne e un diciassettenne, quest'ultimo nato e residente a Roma, mentre gli altri vivono tra Silea e Treviso. A fine ottobre, secondo i carabinieri, avrebbero appiccato il fuoco all'ex archivio dell'azienda in via Macello, a Silea, da tempo dismesso, bruciando carta e materiale plastico. Il fumo, visibile fin dalla Treviso Mare, era stato notato da diversi automobilisti di passaggio. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Di fatto sarebbe stata una ragazzata che ai cinque minorenni rischia però di costare cara. Grazie. Grazie.